Ospitalità di profughi a Zerman, residenti di comitato di quartiere, vogliono andare fino in fondo. Il tema del centro di accoglienza creato nell'area del Bed and Breakfast Le Magnorie sarà discusso lunedì sera in un'assemblea pubblica al centro polivalente di Zerman. Appuntamento alle 21 e ci sarà anche il sindaco, Carlo Arena. Il presidente del comitato, Bruno Cillotto, carisce che i cittadini attendono di conoscere le iniziative del sindaco, che spiegherà cosa sta effettivamente accadendo. Duro anche lo scontro politico in consiglio comunale, con il consigliere di opposizione Giovanni Azzolini, che accusa il sindaco di assenza. Sono politicamente compiacenti e condividono le modalità con cui vengono gestiti i profughi. Attacca, riferendosi all'amministrazione comunale.